Eccoci qua, bentornati a una nuova live del piedinario dello svapo, rifaccio l'intro perché prima mi hanno detto che non funzionava niente e adesso aspetto che si ricolleghino quelli che erano collegati prima, sperando che adesso l'audio sia in sincrona oggi è fuori lì c'è un temporale spaventoso e quindi potrebbe essere... vedi anch'io mi state commentando, ecco è tutto quanto indifferita, perfetto allora ragazzi, benissimo benissimo, ri buonasera a tutti quanti, ri ciao a tutti quanti, rifacciamo un'altra svapata e vi rispiego tutto quanto cosa è successo? Mi è arrivata ieri, mi sono arrivati, io li chiamo gli aromi ma non sono fondamentalmente aromi mi ha spiegato che sono scomposti, della black note, vaporificio semi black note praticamente sono cinque e sono rock, house, jazz, pop e reggae e questa sera io li preparo vi faccio vedere come mi hanno spiegato di prepararli, è molto semplice però per chi li volesse provare guardandoci questo video qui sa come li faccio io dai maglie micidiali mi hanno detto sempre belle maglie, ci sta sempre questi liquidi, questi qui praticamente non sono aromi ma mi hanno spiegato che sono degli scomposti praticamente, no sono macerati non ne sono macerati, è un'estrazione che fa il vaporificio comunque sono estratti da tabacchi veri, non sono sintetici praticamente sono degli scomposti, loro ti danno queste boccette qui dove dentro ci sono 20 ml di aroma disciolto in PG, in glicolo e propilenico e servono per fare 60 ml quindi dobbiamo soltanto aggiungere la base con la nicotina e il glicerolo vegetale allora vi faccio vedere, innanzitutto mi hanno dato 5 di questi boccioni adesso poi mi inquadro anche le mani perché sennò ha pochissimo senso 5 boccioni qua ci sono i 5 aromi e vi dico anche che cosa sono no, non serve maturazione mi hanno detto però io li lascio lo stesso qualche giorno a fra parentesi maturare perché la recensione la farò un'altra sera e quindi avranno tempo di maturare guarda, mi si è incastrato il boccino qua che sfigato io sono proprio uno sfigato in queste robe qui ecco ecco sono il solito stronzo adesso prendo una pinza tra l'altro ho messo tutto quanto a posto qua bellissimo tabacco e menta ne ho svapato a litri in un mese e infatti sai che quel tabacco e menta lì mi stava ispirando parecchio anche a me oh ma non viene mica via qui eh adesso me lo sparo in un occhio no, ce l'ho fatta ce l'ho fatta allora tac mettiamo tutto questo da una parte che altro ho mai sulla VT Box sulla VT Box ho montato l'Adaly il grecale di Synergy Vape è una bomba eh, devo provare un sacco di roba ragazzi intanto stappo tutte quante le bottigliette allora io li preparo a nicotina 3 praticamente per fare nicotina 3 su 60 ml devo metterci una boccetta da 10 ml di base a 18 nicotina perché 18 di su 6 fa 3 gli aromi recensiti nell'ultime live eh, sono 10 ml è vero? sì sì, sono da 10 ml sono 10 ml non mi vedi mai a svapare con tank no, con i tank c'ho il Kaifun c'ho la billet con dentro il vape shell sto svapando anche questo qua eh sì, c'è un temporale mostruoso qui a fuori lì è per quello che fa cacare tutto quanto la situazione allora, iniziamo innanzitutto la prima cosa da fare e dopo ti dico anche i top 3 e c'è un tempo da lupi la prima cosa da fare che è sempre meglio fare è mettere prima l'aroma perché si fa così è molto più comodo adesso inquadro qua in basso ecco qui abbiamo le 5 bocce ovviamente devo metterla in ognuna il suo allora il blu va nel blu e rovesciamo dentro tutti quanti i 20 ml che non è aroma ma è aroma già disciolto in glicole propilenico adesso questo mi piscerà dappertutto infatti mettiamo uno lasciamo sgocciolare per bene 5-10 secondi così ci va dentro tutto e questo è uno magari adesso prendo anche uno scottex così abito di lo fare tutto ecco e il primo che ho fatto è il pop intanto vi leggo anche che cos'è il pop è miscele inglese con base fruttata dona un'esperienza aromatica di piena e tonda che ricorda il tabacco da pipa è un ricco e rilassante piacevole di grande effetto sono un sapore vivace che stimoli sensi continuiamo con il jazz ovviamente arancione arancione devo stare devo stare attentissimo a mettere questo qua tra l'altro il prezzo di questi qua è 17 euro che secondo me ci sta perché alla fine ti fai 60 ml e da quello che ho letto come sono fatti e come ne ha parlato la gente secondo me sono validi poi dopo comunque li proviamo appena appena riesco li proviamo comunque tac il secondo l'abbiamo messo poi ci vuole il grigio il house il reggae è quello mentolo tabacco virginia e menta e ha un odore ragazzi fa un odore un profumo che è una roba bellissima questo qua è il jazz no l'house e l'house è un oriental mettiamo dentro anche questo comunque secondo me questa idea qui è una bella idea perché sono comodi sai che sono per fare 60 ml tac 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 e se sono pronti subito è buono uno lo voglio provare a tripparlo così al volo il rock perché il rock dopo vi dirò che cos'è e capite perché lo voglio fare subito allora questo qui è il reggae madonna che odore oh che profumo che fa buonissimo cioè sembra proprio madonna sembrano le caramelle al mentolo quelle buone di brutto che si mangiavano da piccoli e l'ultimo è il rock adesso ho messo l'aroma sciolto in pg in tutti quanti i flaconi io preparerò 60 ml quindi questi qui sono 20 ml di aroma fondamentalmente di glicore propilenico ok poi devo andare a mettere la nicotina quindi la nicotina è base 50-50 e sono 10 ml quindi mettendoci 10 ml è come se qui dentro avessi 20 ml di glicore propilenico più altri 5 di glicore propilenico quindi 25 e 5 di glicerolo vegetale quindi cosa funziona come funziona che io qui dentro avrò 25 ml di glicore propilenico e 5 di glicore di glicerolo vegetale dopo che gli ho messo la nicotina e quindi mancheranno per fare un base un 50-50 5 ml di glicore propilenico per farne 30 e 25 di glicerolo vegetale è molto semplice io per fare questi qua quindi ripeto 20 ml di aroma fra parentesi che è tutto quanto in glicole più base 50-50 da 10 ml di nicotina più 5 ml di glicole e 25 ml di glicerolo vegetale e così avete un 50-50 queste boccette sono la comodità proprio perfette perché ti devi spaccare le dita le mani il cervello e il fegato per riuscire a svuotare le dentro però almeno abbiamo la nostra nicotinina a 3 queste boccette se ce le avete non le schiacciate troppo forte perché sennò questo qui si stappa e va dentro e dopo voi avete la mosca come si suol dire adesso nicotino tutto questo è un procedimento molto delicato mi raccomando state attenti a non schizzarvi negli occhi che comunque anche se non è pericolosissima la nicotina 18 non fa bene li fa il 6 no li sto facendo al 3 nicotina 18 gli metto una basettina da 10 ml su 60 ml se avete qualche domanda da farmi intanto vi rispondo oh sta calando un po' piovere tempo da lupi ma piove live fantastiche ma non ti stressare che poi ci sparissi di nuovo e non vogliamo no no non sparisco non sparisco ma voilà adesso ho trovato la quadra ho trovato la quadra del sistema svappi tutto al 3 no allora nello speed svappo adesso stavo svappando un po' più alto stavo svappando a 6 però voglio voglio calare perché 1 la nicotina costa tantissimo mi sta scherzeggiando le mie risorse di nicotina e 2 ho sempre svappato a 3 e ho piacere di ritornare a svappare a 3 perché svappando a 3 puoi starci attaccato abbastanza e non ti asfalti la gola non ti rovini ecco io che mi piace starci attaccato parecchio con i tabacchi se me li faccio 6 inizia a sudare cos'è che ha detto al 3 al 3 quando ti passa alza la grada dai no 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 va bene 3 va bene 3 come rigenerio lo strike 18 io ci ho messo nello strike 18 le coil quelle prefatte le nano alien sai che pensavo che fosse una cagata ma invece rende molto il karma non l'ho mai provato io adoro ecco ma man via sti commenti del cavolo ma ti adoro il cavendish per curiosità mi piacerebbe mischiarlo con altri romi magari qualcosa di alcolico tu cosa consigli ma a me mi hanno detto non l'ho ancora provato ma lo voglio provare adesso troverò il modo di comprarmelo il whisky del Blenfield mi hanno detto mi sembra prima mi hanno detto tutti quanti che è molto valido sono curioso di provarlo secondo me quello se è buono ci sta per abbassarvi devi lasciare stare le poche infatti le ho abbandonate non è che le ho abbandonate le uso soltanto quando sono via una giornata dove non posso permettermi che mi pisci qualcosa in tasca però dai ho ripreso il Kaifun nel Kaifun sono ancora 6 però nelle PodMod cazzo stavo soppando a 18 e e adesso sto riabbassando sto riabbassando ma ci sta comunque veramente cioè farsene uno bello cazzo farne 5 con tutte ste boccettine di nicotina non è poi niente ce l'hai già e confermi che è valido proverai mi farei sapere grazie oh mi raccomando mettinele poco perché se no non va bene il whisky secondo me per essere buono deve essere soltanto una nota di fondo se no è stucchevole senti troppo il dolce non rende come deve rendere ecco mi raccomando i tabacchi che io faccio che dico tabacchi a quello tabacco al whisky tabacco a quell'altro sono tabacchi a qualcosa non tabacchi e qualcosa è diverso cioè la nota di testa deve essere sempre il tabacco il resto deve essere soltanto uno sfondo qualcosa che non ti fa asfaltare che ti dà proprio un piccolo retrogusto oh siamo giunti alla fine devo fare soltanto l'ultimo lo usi ancora il cyclone di vicious hand o lo ha accantonato il cyclone non ho in mente qual è il cyclone fammi pensare ah non ho mica presente io avevo il cyclone fammi rileggere cosa mi è scritto il cyclone di vicious hand guarda che mi sa che io non l'ho mica mai avuto cosa ne pensi dei siti che vendono nicotine a 100 risparmio è una follia secondo me è una follia nel senso che con quelle cose lì ragazzi ci si fa male ma ci si fa male cioè nel senso anche uno che è bravo che la maneggia sempre cioè ti basta poco per farsi male perché se te ne va una goccia una o due gocce nell'occhio o te le rovesse su una mano con la nicotina a 100 ragazzi non si scherza già quella 36 può dar fastidio quella 72 fa male ma quella 100 guarda che 100 legna ok glicole propilenico dobbiamo mettere 5 ml però sai cosa facciamo io me ne frego no ci metto 5 ml glieli metto glieli metto cilindro graduato tac e facciamo presto tanto 5 ml si fa presto anche a contarli allora partiamo di qua ehi 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 si è spento il pc uno e qui io l'abbiamo messo sto usando più scottex adesso che in tutta la mia vita più che altro per il sudore uno il rock è fatto è facilissimo adesso qui si fa presto due e è fatto con le gocce di sudore che cadono perché io sono stronzo tre cilindro graduato ragazzi secondo me è una cosa fondamentale per chi fa i liquidi per chi si fa i liquidi in casa o perché si deve fare la miscela da mettere nel 48 scusa la scrittura ma se i tastieri sono insopportabili adesso devo leggere cosa mi avevi scritto perché l'ho perso nicotina 100-500 basta una goccia sulla pelle per infartare no una goccia nella pelle per infartare dipende come sei te però è pericoloso cioè non c'è un cazzo da fare magari non ti viene un infarto ma sei a tiro cioè ragazzi è veramente cioè non vendo potrebbero vendere un'arma cioè se mi vendi una calibro 50 con 10 munizioni ecco è uguale perché se io voglio fare cioè può cadere nelle mani di chiunque non va bene finché hai una nicotina 18 vai in mano un coglione a un pazzo non succede niente oddio almeno qualsiasi cosa che può succedere può essere reversibile ma cioè queste cose qua se va in mano un bambino cioè si può uccidere lui e può fare male anche degli altri cioè non c'è da scherzare proprio per niente con queste cose qui è un gioco è bello è divertente ma fino a un certo punto ci sono cioè qui c'è la vita della gente cioè non è non è che poi si torni indietro capito quando uno si fa male si è fatto male bisogna pensarci a queste cose qui e quindi adesso abbiamo dentro ogni boccetta 30 ml di glicolo propilenico e 5 di glicerolo dobbiamo mettere 25 di glicerolo in ognuna puoi shakerare e il gioco è fatto con 100 è molto semplice per esempio quando tu prendi il boccettino di nicotine con scritto 18 ecco invece di 18 100 o 500 o 750 c'è anche ma è roba che è pericolosissima ma veramente pericolosissima noi quando abbiamo iniziato a svapare ci svapavamo dentro delle mod del 36 ma erano robe che non faceva neanche vapore e non la sentivi e prendevamo anche la 72 la tagliavamo da incoscienti perché ci si poteva già far male ma 100 ma 100 è una roba grande c'è già il 72 la devi usare con la mascherina perché dà fastidio insomma un 50 ma 700 eh esatto allora questo è brand io gli scottis continuo a buttarle via ma mi servono non capisco che tara mentale ho più che altro che mi servono per sugarmi il sudore che sto sudando come un jaguar allora uno due si fa presto come vedete dai non occorrono tante cose un cilindro graduato glicole glicerolo e nicotina per farsi questi liquidi qui è molto semplice però magari c'è chi non l'ha mai fatto che ha paura di fare un accazzato di sbagliare rovinare tutto e allora dai gli faccio vedere come si fa tanto li dovevo fare tanto volevo fare davanti a una telecamera mentre ci facciamo due chiacchiere tac tra l'altro a chi servissero cilindro graduati glicole glicerolo eccetera eccetera io consiglio di prenderli sempre separati perché secondo me sono migliori e poi non c'è acqua io consiglio di prenderli su farmacondo perché arrivano bene e se dovete prendere anche qualche cosa altro sopra cioè spendete 50 euro le spese di spedizioni sono gratis poi magari vi lascio il link finito alla live metto in descrizione il link e così andate diretti alla pagina comunque glicole e glicerolo vi mettono la pagina dei glicole e glicerolo e secondo me è molto valido io lo consiglio a tutti la live a tutti quanti perché io mi rifornisco sempre da lui ad esempio la ble nicotina 100 allora sì comunque 100 per ml è tanta è tanta se vedete io ne metto sempre un pelino di più perché tanto un po' ne rimane sempre nel cilindro quindi per ovviare a quello che rimane nel cilindro ne metto un goccino in più così non devo stare a scolarlo per due giorni e l'ultimo ecco chiudiamo la boccia e il gioco è fatto ragazzuola adesso devo tapparli col tappo shakerare e siamo a posto ti mancano soltanto gli arami per il resto è già tutto bravissimo siete in tanti che avete già tutto quanto però per chi non ce l'avessi vuole incominciare a farsi due tre liquidini io farmacondo lo consiglio sempre mi sono sempre trovato bene non ho mai avuto un problema tra l'altro se arriva qualcosa di un cilindro graduato che è rotto o qualcosa li cambia si sono trovati sempre tutti quanti bene poi se avete bisogno gli ho mandato una mail vi consiglia è bravo è molto bravo un attimo che arrivo è ancora il tuo codice sconto su farmacondo e codice sconto non credo sono sono affiliato però adesso farmacondo su glicole e glicerolo oddio su glicole e glicerolo c'è già gli sconti mi sembra che il glicerolo costi 7 euro 50 al bottiglione direi che è buono prezzo buono prezzo buono dopo vi lascio il link ragazzuoli sono un po' durini sti tappi qui sto notando che ci si spaccano le mani allora adesso come potete vedere aspetta che li richiedo tutti praticamente con questa roba qui ci posso svoppare per due mesi perché 6x5 fa 30 300 ml di roba io ho ordinato il tuo kit e mi hanno mandato due litri di vg e mi hanno regalato un litro di pg per il disguido hai capito c'è lì proprio bravo nel senso può capitare a tutti quanti che ti sbaglia mettere una boccia però invece di dire dai mandami indietro che te la cambio te ne ha mandato direttamente un'altra è un comportamento del signore secondo me ma sono miscelabili tra loro questi liquidi no secondo me no non ha senso secondo me perché adesso vi li leggo allora il rock che è quello che voglio provare stasera e la provo così al volo non come recensione voglio provare perché sono curioso per dire il cuore di questa miscela robusta è il Kentucky Fire Cured quindi un tabacco Kentucky che è uno dei miei tabacchi preferiti e trattato a fuoco la stessa varietà del sigaro toscano esattamente questa miscela distintiva mantiene inalterata le caratteristiche della foglia con una nota di caramello tostato hai capito per dire in questo qui c'è Kentucky e una nota di caramello tostato per dire te ne metto un altro il reggae è un Virginia con le foglie di menta hai capito e quindi fai fatica a metterli insieme un'altra è una miscela inglese il Jeff è un American Blend invecchiato in botti di rovere sono particolari secondo me se li andiamo a mischiare uno con l'altro roviniamo tutto sono da svapare singolarmente questi qui sono buoni allora Filometto84 ho avuto un problema una volta su un pacco farmacondo li ho contattati in tempo zero non risolto sono proprio professionali ma è per quello lì che lo consiglio perché comunque i prezzi sono buoni e poi sono professionali nel senso che se hai bisogno ci sono ci sono subito cioè non non fanno le pugnete per 5 euro 10 euro non gliene frega niente loro vogliono darti un servizio poi ovviamente è il loro lavoro e quindi ci devono guadagnare perché lo fanno per lavoro non lo fanno per fare della beneficenza però non si fanno compatire se ti arriva una roba rotta e dire ah se è rotta non è colpa mia ecco ci tengo cioè io conosco il boss per parentesi che lo saluto anche ciao e lui vuole dare un servizio alla gente capito lui fa questo diciamo che va a pari passo con il lavoro il suo lavoro è avere una farmacia col sito online ha fatto anche lo svapo perché gli piace il mondo dello svapo e vuole dare un servizio quindi secondo me è una bravissima persona queste bottigliettine qui le rimetto qua che non si sa mai le posso le lavo e le riutilizzo e adesso do proprio una drippatina aspetta che intanto vi faccio vedere come sono venute le boccione tac sono così ecco questi bellissimi 300 ml adesso voglio provarmi lo butto qui sotto partanto qui c'è un Kentucky aspetta che gli do una asciugatina e mi asciuggo il sudore allora oh porno mia tu solo ordini su farmacondo o altri siti da consigliare io ordino soltanto dal di lì ho sempre fatto dal di lì ma perché io sono dell'idea che quando ti trovi bene con una persona con un'azienda anche se magari c'è un sito che per un giorno fa un'offerta e ti risparmi 5 euro io preferisco dare i soldi dove mi sono sempre trovato bene a me ne sono fatto così eh le bocce come le lavi una volta le mettevo negli ultrasuoni poi mi si è rotta quegli ultrasuoni quindi adesso le tengo qui finché non mi arriva una boccia nuova una lavatrice nuova ultrasuoni e spero che arrivi presto perché dico spero che arrivi ma la devo ancora comprare spero che arrivi nel senso spero di riuscire a comprarmela presto tanto che intanto rialzo la telecamera perché mi sono rotto il cazzo di stare piegato oh ma come slampa là fuori il rock per essere il rock si Kentucky e con una ligera nota di caramello tostato mi ha fatto venire la scimmia della Pico ne ho 4 adesso ah ne ho 2 ne ho 2 perché uno ogni tanto mi pisciava mi ha rotto i gates e allora ha detto ascolta compro un'altra però la squeeze guardate che io ho tante ne ho abbastanza di box ma la squeeze è comodissima per me la squeeze è comodissima misanno domenica io domenica lavoro la MotoGP me la guardo da da SkyGo Plus Kentucky si sente che è buono non ci sto sentendo il caramello tostato però adesso ragazzi non è la recensione il cotone è usato questo qui lo devo provare la prossima volta dopo che ho rigenerato non prendetelo si sente una puntina di tostato procurati un B by K e voilà non lo conosco pensavi andassi a vedere Adelvivo io sono andato per tre anni fila al Mugello poi quest'anno non sono riuscito ad andare per esigenze lavorative ma a Misano non mi piace vedere Adelvivo perché è tutto cemento mentre il Mugello è bello perché è proprio grande c'è il prato ti metti là con la tenda fai i bagordi è bellissimo per tre giorni è tutto bellissimo ma le gare dal vivo è bello perché c'è c'è l'emozione di tutto quanto la gente ma se vuoi veramente guardarti la gara la vedi molto meglio ma come anche le partite di calcio come tutto quanto in televisione le vedi meglio non c'è niente da dire purtroppo guardandoli in un circuito le vedi in un maxischermo le vedi passare lì davanti e basta io a casa non è per dire ma mi metto la mano di Valentino Rossi sto nel divano con la tachicardia tutto così e ti fare da Rossi e Dovi come un porco sto male quando finisce c'è l'ansia mi alzo e mi tremano le gambe io la vivo così la MotoGP e non sono l'unico immagino Federico Marongiu ciao Massa quale liquido consigli di quelli dell'ultima serie di Hazard quelle aromatizzate gli alcolici per intenderci su che sistema li consigli allora sistemi comunque degli atomizzatori con la camera abbastanza larga e a me piace lo Scottish e quella Jack Daniels secondo me sono buonissimi io per fare i miei mi è venuta veramente l'emozione di usare il Jack Daniels quando ho visto quello quando ho provato quello perché era troppo buono ho detto no me lo devo fare al Jack Daniels però con il tabacco che piace a me sotto domenico del vivo è più bello lo so però devo lavorare purtroppo adesso si inizia a sentire ragazzi non dico più niente mi drippo una goccia di quella la menta perché sono curioso in maniera bastardissima ma non vi dico niente perché la recensione poi la farò ecco qua il tappino il tappino è la seconda volta che mi chiava è già la seconda volta che mi chiava ma adesso io ho capito come devo fare sapete come devo fare non devo più usare il tappino scappa fuori ciao Johnny di Boss Speed Racer qui fischi Speed Racer probabilmente adesso ho incestrato meglio ma che gas fa hai provato a fare le ricette di hazard no quelle lì adesso me le voglio fare mandare da farmacondo che ho visto che le ha poi le faccio e faccio la recensione anche di quelle lì secondo me sono molto buone di quelle questo qui la mia amorosa va fuori di testa va fuori di testa con questo qui comunque non vi dico niente di questi qui perché devo fare la recensione devo fare la recensione che sarà bella Antonio S Federico dopo che ho provato 8 gus il caiphone prime per me è diventato inutilizzabile cosa mi consiglieresti come liquidi per il prime tabaccosi aromatizzati e non grazie il caiphone la verità è che ci stanno bene dei fruttati qualcosa aromatizzato alla frutta o qualcosa un pochino fresco secondo me rendono un pochino di più Nellis Nellifer se posso trovarti mi fai sentire il tuo macerato al whisky alla grande cosa ne pensi della nuova linea tabaccheria ancora non l'ho provata è un pezzo che non passo in bottega perché non ho non ho tempo adesso non ho avuto tempo e quindi non ho provato niente prego Anthony è uno speed revo o uno speed up è uno speed revo lo speed up ce l'ho smontato lì che mi si è ereto il pin e quindi quando trovo ce l'ho il pin ma quando lo trovo riesco a montare glielo monto allora ho sperato un po' non volevo perdona non ti preoccupare Kaifun 7 cosa ne pensi non l'ho mai provato quindi finché non li provo non dico niente mi consiglio una box con batteria integrata torca io con questa qui mi sono trovato benissimo con la VT box l'unica pecca che è questa qua che l'ho dovuto cambiare una volta la batteria perché quando la compri è settata male quindi la devi attaccare scribe e fare metterla a posto quindi che si carichi bene bilanciare non so mai me l'ha fatto un mio amico so sano bilanciare le celle queste cose qua e quindi ho dovuto cambiare la batteria dentro però va bene mi trovo bene dura tanto ed è molto comoda allora messo su Black Cavendish sia tabaccheria che in Gioswapo circa l'1% ora si aspetta un po' orca l'1% è poco eh è vero che rende meglio lo speed drive sul DNA no rendono uguali dipende per che cosa io per quella whisky preferivo lo speed up però purtroppo non sta funzionando adesso la linea mix and vape meglio svapparla subito perché il mio palato sembra che sparisce il gusto del tabacco no può succedere che svappato subito lo senti poi dopo una settimana cala e poi dopo due o tre settimane ricomincia a riprendere tanto sono già reperibili gli aromi Black Note che ero recensito la scorsa volta sì sono già reperibili su tantissimi siti comunque ho messo in un commento del primo video che ho fatto l'altra volta un commento ho risposto con un sito dove si può comprare c'è proprio ho scritto dove si trovano secondo me sono buoni molto lo scottis sul caffin prime è tanta roba lo scottis è buonissimo lo scottis assomiglia tanto a quello che mi sono fatto io al whisky cioè è diverso io facevo già un tabacco al whisky che era un tabacco che mi aveva consigliato il santone ed era buonissimo poi è diventato irreperibile proprio hanno smesso di produrre quel tabacco e allora ho utilizzato un'altra base tabaccosa e l'ho aromatizzato io al whisky con il whisky dopo aver fatto quello lì è uscito azad ed era molto simile al mio e quindi mi è piaciuto tanto quindi approved approved anzi quando avevo finito dovevo riestrarlo mi scocciava a stare lì e aspettare un mesetto intanto mi svapavo dello scottis se sempre ti piacevole i compagni ti saluto che vado a farmi venerdì sera ciao a te e a tutti quelli in chat ciao Carlitos Manson buona serata a te e ai tuoi amici uno è poco ma si parte dal basso per alzarlo dopo nel caso questo è il ragionamento giusto anche perché chi parte facendoli troppo alti non torni più indietro è come il sale nella pasta se ne li metti poco li puoi aggiungere ma se ne li metti troppo butti via tutto dai siamo a 38 mili rispondo alle ultime tre domande ragazzuoli poi dopo me la colgo anch'io a farmi venerdì sera in casa guardo due o tre puntate di walking dead che sto finendo su una metà dell'ottava stagione perché fra un mesetto fra meno di un mese incomincia la nonna il jack di aso si diluisce come è fatto stasera non lo so io quando lo prendevo era soltanto ad aggiungerci la nicotina però adesso magari è incambiato sto provando la tabaccheria al 2 massimo 4% li sento parecchio si la tabaccheria è buona io lo facevo al 3% ragazzi non posso riuscire a tenermi tutti quanti questi questi attimizzatori sei bruttissimo lo so ci fa un tutorial di come fare ad arrivare al liquido partendo dalla foglia no non lo voglio fare magari lo farò più avanti ragazzi dove guardi le serie e la moto gp e le serie le guardo su il genio dello streaming alto non mi ricordo è qui da 2-3 mesi è poi acceso nel computer invece la moto gp su skygo è l'unica quindi ultrassuono ho provato però non mi piace non mi piace tantissimo quel tipo lì cioè non mi piace proprio come viene fuori allora è il ragionamento giusto che mi hai insegnato tu una ne mezza fa circa esattamente anche perché se voi vi abituate a svappare a una concentrazione aromatica bassa sentite molto di più le cose e vi asfaltate molto di meno per dire c'era gente che si svappava tabaccheria fatta il 10% e qualsiasi altra cosa non la sentiva fatti al 3% quando ti abitui li senti bene lo stesso soltanto che senti anche il resto delle cose e non ti asfalti parlando di liquidi al whisky non posso dimenticarmi old wild dell'insomine vapor un attimo che è il top qua eh te lo faccio anche vedere un saluto dalla Toscana ciao Pelè grandissimo allora ti faccio vedere che ce l'ho qui e adesso mi ha fatto unire voglia e anche se c'è il miscuglio qua una goccia me la devo drippare qui dentro perché è buonissimo guardatene ancora tac un pochettino madonna se è buono guarda come sfrigola madonna questo ragazzo è da usare con parsimonia questo è il vero whisky tutto il resto è nebbia bello dai dai faccio le ultime domande e basta bene consiglio quello del 3% è per quello che non mi piacciono altri liquidi cazzarola eh sì perché se tu ti asfalti cioè come se ti svapi come dire come se mangi sempre iper piccantissimo e poi dopo smetti di sentire i sapori delle altre cose magari ti mangi una vellutata di qualcosa e ti sembra di berti dell'acqua è normalissimo comunque il reggae ti stura al naso così volevo dire dai ragazzi vi saluto ci becchiamo domani sabato ci sono le qualifiche poi ci faceremo GP ci becchiamo lunedì lunedì sera dove farò la recensione di questi liquidi che ho appena fatto un saluto a tutti quanti ragazzi grazie per avermi seguito se non siete iscritti iscrivetevi al canale mettete mi piace al video commentate qui sotto se avete delle altre domande da farmi seguitemi su instagram e vi metto poi il link di farmacondo qui sotto in descrizione ciao a tutti quanti ragazzi buona serata e grazie grazie